Buongiorno a tutti, sono Davide Marone e benvenuti al consueto appuntamento con l'analisi live del mercato dedicato all'apertura delle contrattazioni in Europa. Pochi gli spunti che sono provenuti dalla giornata di ieri, fondamentalmente i quadri tecnici sono rimasti i medesimi, abbiamo visto una leggerissima e sfumata direzionalità rialzo del dollaro americano, qui vedete il grafico del dollar index di FXCM, abbiamo visto, ripeto, un lieve rafforzamento del dollaro americano, peraltro non legato a particolari dati macroeconomici, ieri il calendario era praticamente scevro di ogni dato di rilievo, anche oggi, tanto per balzare un attimo in avanti, non avremo assolutamente dati importanti per quello che riguarda il fronte statunitense, mentre nella mattinata alle 11 sarà la pubblicazione dello ZEV sia dell'Eurozona ma soprattutto di quello tedesco e chiaramente questa è la release che maggiormente ci interessa nella giornata di oggi, nella mattinata e soprattutto per osservare delle dinamiche di interesse rispetto al cambio euro-dollaro soprattutto. Dicevo, abbiamo visto un lieve rafforzamento del dollaro americano con nuovi massimi, qui vedete del dollar index sopra 10.560 punti in cui aveva, come osservate, cocciato più volte il grafico, fermo restando un percorso rialzista, qui ben evidenziato dal quattro ore, che da alcune settimane non è fondamentalmente stato messo in discussione se non su questi tentativi, soprattutto lo ricorderete settimana scorsa, che però non sono andati oltre la soia al ribasso di 10.500. Per quello che riguarda adesso l'analisi di breve, stiamo assistendo a un pattern ribassista che potrebbe andare a ritestare i punti di massimo prima di andare a ripartire, vedete con uno stocastico leggera divergenza, di fatto un massimo di breve termine, la possibilità proprio di andare a rilavorare sulla confluenza grafica nell'area statica che va da 10.550-10.560 punti per delle possibilità ancora rialzo. Un motivo di, in qualche modo, ottimismo rispetto ai movimenti di ieri è stato proprio che il dollaro americano si è andato a muovere in maniera assolutamente univoca contro tutte le altre valute, per quello che chiaramente è la portata di movimenti che non sono stati assolutamente volatili o comunque degni di una certa escursione di prezzo, però nell'ambito dell'analisi tecnica dei livelli e quindi di segnali operativi, aggiungere un elemento come possa essere il sentiment di mercato piuttosto che le correlazioni, in questo caso quelle dollarocentriche, è un elemento che comunque ci può aiutare nell'implementazione delle nostre scelte operative. Ripeto, il quadro per il dollaro index è ancora di altista, valutiamo eventualmente i pullback in aria 10.550-10.555 per delle ripartenze che al momento sono verosimili verso quota, verso il livello che guardiamo con attenzione a 10.570, ma evidentemente verso quota 10.600 punti. Andiamo a prendere i grafici dei quattro cambi che concorrono alla costruzione del dollaro index, partendo naturalmente dall'euro-dollaro che ieri è andato a cedere qui sotto l'1.34 ed ha fatto per la verità un movimento anche tecnico perché è andato a riprendere il livello successivo che ricorderete ieri individuavamo in 1.3375, violato anche quello e il livello successivo che questa mattina è stato avvicinato a 1.3355. Naturalmente da un punto di vista daily non è cambiato granché rispetto alla dinamica di ieri, dal punto di vista qui del grafico a 4 ore abbiamo avuto ancora una volta una conferma di swing decrescente, per cui ciò che si evinceva dallo stocastico lo avete visto e chiaramente era perfettamente riprodotto dal prezzo, bella la sinergia ancora una volta, ma ormai è quasi superfluo citarlo, tra le medie esponenziali 21.100 su un grafico a 4 ore che probabilmente è stato il migliore, non solo sull'euro-dollaro per seguire la price station durante il ribasso che è partito da metà del mese di luglio e adesso la possibilità di ulteriori estensioni verso i punti di minimo non sembra assolutamente così remota. Su grafico orario abbiamo di fatto uno stocastico che si trova già in territorio di ipervenduto, abbiamo delle medie a cominciare dalla 21 che si è direzionata al ribasso, per cui uno scenario verosimile potrebbe essere quello di pullback, anche in questo caso di breve, ancora 1.3375 l'area di destinazione per delle ripartenze e quindi la possibilità di lavorare al ribasso verso i punti di minimo, questo potrebbe essere uno scenario abbastanza plausibile, chiaramente lo vedete qui l'indicazione dei volumi è veramente, insomma parla da sé nel momento in cui i volumi sono molto molto ridotti, chiaramente la volatilità ieri non potevamo che aspettarcela come è stata, nel momento in cui ormai lo osserviamo da alcuni mesi come lunedì rappresenti a scanso di pubblicazioni importanti che peraltro quasi mai ci sono, c'è talvolta l'inflazione europea che viene pubblicata di lunedì, comunque di fatto una giornata che va a caratterizzarsi per delle fasi di congestione, il che da un punto di vista pratico non è sicuramente lo scenario migliore per operare, da un punto di vista di aspettativa però nel momento in cui uno dei cicli maggiori di mercato è l'alternanza tra i range ridotti e range estesi, chiaramente quando abbiamo fasi di range, ma non solo lateralità, proprio fasi in cui la price action si va di fatto a muovere con delle escursioni molto ridotte, è chiaro che questo prelude a quelle che possono essere delle importanti fiammate anche perché la volatilità media è ancora discretamente elevata, per cui attenzione, attenzione anche alle rotture già sotto 1.33.55 perché potremo andare verso i minimi e anche pensare di andare oltre guardando all'1.33.20 e soprattutto all'1.33. Questo è più difficile che avvenga nel momento in cui i primi market mover di rilievo ci saranno a partire da domani, ma stiamo attenti perché spesso non sono quelli che fanno muovere i prezzi, i prezzi vanno in qualche modo a assaggiare determinati livelli, a far scattare degli ordini e questo è sufficiente a far partire dei movimenti anche in giornate apparentemente calme. Per cui monitoriamo questi livelli, io per l'ottica realtista sono molto più conservativo per il semplice fatto che siamo in un marcato trend al ribasso, quindi contemplo delle operazioni in long ancora una volta al superare di 1.34. In questo primo movimento avevamo avuto di fatto delle buone conferme quando eravamo andati oltre, poi era stato completamente riassorbito, ma si era fatto in tempo a mettersi in stop in pari, quindi il momento al ribasso è stato contenuto. Ma ancora una volta, superamente il 1.34, in ogni caso sarebbero gli unici che potrebbero indurmi ad una view e quindi ad un'operatività realtista. Siamo in un quadro in cui qui parliamo ancora di resistenze e ripeto, sarebbe abbastanza azzardato pensare di andare a lavorare long anche già sopra 1.33.75 dal mio punto di vista, per cui resto monitorando la soglia di 1.34. Per il resto abbiamo già dettato gli elementi per l'operatività che dobbiamo privilegiare, cioè quella in short. Per quello che riguarda il cable invece il percorso tecnico è stato più lineare, anche ieri abbiamo visto delle discese un po' più importanti, qui sul 4 ore monitoriamo e ribadisco solo monitoriamo perché siamo ben lungi dallo sviluppo completo delle conferme di pattern, un'eventuale divergenza regolare realtista, mi porto però sul grafico orario dove abbiamo visto le buone confluenze grafiche, peraltro anche sul 4 ore, anzi a maggior ragione sul 4 ore si notavano, qui sull'orario molto bella la media 21, l'area delle confluenze grafiche, ancora una volta ieri eravamo qui, lo ricorderete, a 67.85 e siamo ripartiti con delle buone vendite, il pivotelli praticamente era all'incirca su questo livello nella giornata di ieri, ora è leggermente spostato al di sotto ma ancora va a sottolineare, ad evidenziare questa importante area che ancora deve suggerirci delle operazioni in vendita, così come ancora una volta fino a uno 68.10 l'impostazione resta questa. Dopo 68.10 potremmo eventualmente contemplare, ma vedete che ci sono diverse resistenze tecniche, qui c'è il bellissimo passaggio delle media 200 sul grafico orario per cui vedete che abbiamo una serie di aree di resistenza che andrebbero a complicare il percorso a rialzo, motivo in più per ragionare ancora in ottica di allinearsi al trend per quanto maturo, finché non abbiamo dei pattern significativi di reversa, dal mio punto di vista non c'è, non sussiste motivo per andare a girarsi e per contemplare operazioni contrarie, abbiamo messo a segno nuovi minimi proprio nella primissima mattinata, ora andiamo a risalire, ma ripeto questo ci cambia poco, ricerchiamo un punto dove abbiamo rischio rendimento tra l'1.68.10 e l'1.67.90 per contemplare operazioni in vendita. Per quello che riguarda il dollaro yen, ieri dicevamo come il daily potesse restituirci un potenziale segnale rialzista che diciamo in parte è arrivato, cioè il superamento dell'area di 102.35 in particolare ci indurrebbe maggiormente a ritenere che il prezzo possa raggiungere, vedete i livelli successivi 102.55 e 102.75 così come il grafico dal mio punto di vista lo mostra con discreta chiarezza mi porto anche qui su grafico orario, dei ritorni sotto area 102 vedete su grafico orario e si vede anche meglio perché questo percorso di ripresa dopo i minimi a 101.5 ora è ben accompagnato non solo in ottica di prezzo quindi minimi e massimi ma qui dalle medie mobili con la 21 che ha incominciato ad assumere una certa direzionalità, sono in atto dei crossover rialzisti con le medie di più lungo periodo, pur vero che siamo in divergenza regolare ribassista qui sul grafico orario ma attenzione perché ripeto fino a 102.10 per essere un po' più aggressivi rispetto al 102 secondo me anche tradare questa divergenza può essere in qualche modo rischioso perché qui abbiamo una serie di supporti sia statici che dinamici che possono fare ripartire il prezzo. Quindi uno scenario in questo caso non eccezionale ma l'abbiamo visto dal daily, faccio una brevissima digressione proprio sul daily, è abbastanza palese, ha uno sguardo anche veloce come la press action sia tutt'altro che in qualche modo univoca, anzi abbiamo visto una grande volatilità con la formazione vedete di queste doge, di queste pin, poi candele ad ampio regge in parte riassorbiti sui prezzi di chiusura e insomma non c'è un grandissimo quadro tecnico per cui anche qui di fatto io resterei molto prudente, non guarderei tanto il grafico daily e ancora meno il 4 ore, lavorerei molto sul grafico orario per la ricerca comunque di obiettivi relativamente vicini. Quindi qui studiamo questa dicotomia divergenza punti statici, divergenza medie mobili, ancora una volta con uno dei due approcci che seguiamo per trattare le divergente, riusciamo dal mio punto di vista lavorarle a meglio. Quindi ancora se non siamo già dentro e lo saremmo stati proprio in un'ottica aggressiva, quindi al primo massimo decrescente di prezzo, il suggerimento è quello di non entrare ancora ma aspettare il superamento dell'area della media 21 e del livello statico che qui individua in 102,10 fino a quel momento l'impostazione, seppur di breve, resta un'impostazione rialzista. Completiamo il quadro dei quattro cambi che compongono il dollar index andando sull'australiano che, perdonate se sono in questo senso un po' negativo ma anch'esso lo osservate, non ci dà grandissime indicazioni, dicevamo anche ieri come il segnale daily fosse controverso e meno evidentemente chiaro di altri, il quattro ore ancora ha evidenziato quest'area qui attorno al pivot daily, cioè l'area di 92,70 come una zona di vendita per andare a rivisitare i minimi. Questo dunque le indicazioni maggiori che provengono da questo time frame, il grafico orario ci può dire qualcosa in più nella misura in cui utilizziamo le medie mobili, la sinergia tra la 21 e la 100, considerando proprio appunto l'area vedete di 92,70 che già ha fatto partire nelle ore scorse delle prime vendite e l'area di 100 come area di training stop per cui area che va in qualche modo a proteggere il movimento ribassista. Questi i riferimenti stiamo osservando le leggere risalite, vediamo se ancora una volta 92,70, 92,60 potremmo andare di fatto a bloccarci e pensare di rientrare in ottica ribassista osservando quello che può essere anche l'indicazione dell'oscillatore stocastico che in una fase simile laterale può aiutarci nell'interpretazione seppur di breve, però vedete punti in grado di far partire dei movimenti importanti non se ne ravvisano ancora, è chiaro qui se andassimo sotto i minimi 92,35 ci potrebbero essere dei buoni break e quindi si potrebbe andare a guardare tranquillamente all'area di 92 e perché no di 91,85 così come a rialzo sarebbe più significativo il superamento di area 93 ancora una volta e vedete con delle eventuali coperture rispetto a questo hidden gap legato alla settimana scorsa e ai pesanti ribassi post dati sull'occupazione, ma al momento i migliori punti di rapporto rischio e rendimento non sono in quest'area, per cui restiamo da analisti tecnici con l'idea di vendite ancora attorno a questo punto e se raggiungeremo i minimi poi ci comporteremo di conseguenza settando uno stop in pari e valutando se davvero ci potranno essere delle potenzialità di break al ribasso. Andrei a guardare anche il neozelandese che si è mosso in maniera direi buona nel momento in cui abbiamo visto delle buone discese questa notte, il 4 ore continua ragazzi a mantenere una grande tecnicalità per cui lo ripeto ormai a giorni, se non siamo focalizzati necessariamente su uno o due strumenti ma vogliamo ampliare il nostro orizzonte di analisi, dobbiamo essere bravi a fare due cose, a ricercare innanzitutto i quadri tecnici più interessanti e che grazie alla volatilità che può essere legata anche a delle news che vanno a susseguirsi, ci possono di fatto fornire maggiori probabilità di movimento a favore quindi dei punti tecnici che ci offrono rischio rendimento. E la seconda cosa è andare a scegliere secondo me il time frame giusto che non è universale, per esempio ancora una volta il 4 ore come si vince dal grafico del Kiwi è stato un time frame secondo me molto molto affidabile, guardate i livelli statici, guardate la media 21 e insomma vi potete tranquillamente dedurre il perché. Abbiamo visto nelle buone discesi con nuovi minimi sotto 84 e 25, abbiamo raggiunto quello che era un target che paventavamo da diversi giorni, cioè la soglia di 84, ora attenzione perché potremmo assistere a dei tentativi di pullback che potrebbero proprio andare a coincidere qui col passaggio della 21 per cui da area 84 e 30, 84 e 40 per delle eventuali ripartenze con la possibilità vedete di mettere a segno nuovi minimi, torno sul 4 ore per evidenziare i livelli precedenti, vedete siamo su dei punti tecnici che comunque di grande rilievo, guardate il swing che c'era stato qui a giugno e che movimento aveva provocato dopo, quindi nell'ambito dei criteri che noi utilizziamo per di fatto studiare i migliori supporti e le migliori resistenze statici, ecco uno dei criteri è proprio quello che di fatto contempla le escursioni di prezzo che ci sono state al contatto dello stesso con uno di questi livelli e appunto 84 lo ricorderete di fatto aveva portato poi ai rialzi importanti di praticamente oltre 4 figure fino al 0,88, quindi siamo su dei livelli molto molto cruciali, attenzione perché come in tutti i livelli di questo rilievo chiaramente dovremo da trader cercare di cogliere le migliori opportunità, a ribasso potremo assistere a dei break importanti, abbiamo individuato in 83 e 55 il primo livello di interesse, quindi l'idea di poter lavorare in breakout considerando anche una volatilità che resta discreta anche sul Kiwi secondo me ha abbastanza luogo di essere, attenzione però mi porto su grafico orario ai tentativi di rottura e poi di pullback perché potrebbero andarsi a palesare, quindi il mio suggerimento è sempre quello di cercare i primi pullback e questo lo si può fare se il movimento va particolarsi in maniera rapida anche su un grafico a 15 minuti, nel momento in cui le medie in particolare la 21 vanno a costituire dei punti di ritest, questo può essere il primo caso qui sul grafico a 15 minuti, laddove dovessero esserci delle rotture del livello statico ancora la media 21 qui su 15 minuti potrebbe fare la sua parte e suggerirci dei punti d'ingresso che ci permetterebbero di cogliere il movimento a ribasso con una maggiore probabilità rispetto al fatto invece di tradare la rottura così in maniera pura. Mi porterei sull'azionario, poi eventualmente quando resto con voi per le vostre domande potremo andare a guardare altri cambi, l'azionario che sul 4 ore ci ha fornito ieri qui sul DAX, sull'indice tedesco, dei possibili segnali di fatto di interruzione o quantomeno di perdita di momentum ribassista con il superamento seppur velato qui di area 9.160 punti e comunque di fatto con una media 21 che è andata leggermente a sporcarsi nel momento in cui invece era stata molto precisa in precedenza. Dicevo sul daily come la formazione di un pattern rialzista o meglio di reversal si potesse andare a palesare qui al superamento proprio di quest'area 9.160, diciamo che il livello è stato oltrepassato anche se non in maniera particolarmente significativa, però l'idea che ci si possa muovere a rialzo anche sull'indice tedesco se appunto quest'area tra 9.150 e 9.160 tenesse, secondo me è un ragionamento che è a luogo di essere, per cui attenzione perché se quest'area dovesse essere confermata ho idea che poi si potrebbe risalire con primo target a 9.255 punti, poi vedete i livelli successivi con l'area di 340-350 che sarebbe un'area di grande interesse. Per cui aspettiamo delle conferme in questo senso, dal mio punto di vista se quest'area tiene io sarei conservativo ma sotto 9.085 ricontemplerei dei short perché sarebbe secondo me un ulteriore bel segnale di ribasso per le borse, però il daily con quella figura di potenziale riversa, qualche dubbio me lo mette per cui aspetto conferme ed eventualmente anche il trading dei nuovi massimi sopra 180 e quindi entrare a rialzo per puntare a una buona escursione anche di 75-80 punti fino a 9.250-9.255. Per l'S&P abbiamo visto sul daily questo engulfing, questo bearish engulfing che è stato un bel segnale proprio con la chiusura di venerdì, ieri l'impostazione long ha pagato e l'idea qui di aggiungere sugli importanti livelli di resistenza attorno a 1945-1952, tanto per dare i maggiori livelli, andiamo a prendere qui il massimo, 1944 e appunto l'area qui di 1952, ecco questa è un'area veramente importante dal mio punto di vista per l'S&P 500 perché se dovessimo rioltrepassarla o idea che possano tornare anche in maniera importante gli acquisti, anche da, ripeto, pattern daily a rialzo che peraltro già ieri si è manifestato e che già ieri potevamo sfruttare, a differenza degli indici europei che sono da questo punto di vista sincronizzati per così dire in ritardo, attenzione a questo punto perciò a valutare diciamo due limiti, a ribasso il pivot a 36 e a rialzo il 44, per cui si potrebbe anche operare laddove ci fossero delle rotture rialziste per poi mettere stop in pari a 52, valutare se veramente ci potranno essere delle estensioni che potrebbero divenire molto interessanti, oppure a ribasso sotto, ripeto, 36 perché anche in questo caso l'area di 27 potrebbe essere la prima di interesse, quindi un'operatività in break con l'idea di cogliere per mettere stop in pari 7-8 punti che naturalmente in termini di TIC vuol dire 70-80 e da lì riuscire a chiarirci un quadro che, ripeto, è controverso proprio per le figure di reversal che abbiamo visto, però comunque inserite all'interno di un contesto più marcatamente ribassista. Il grafico orario sembra suggerirci il primo degli scenari, vedete con la media 21 che fa da supporto dinamico proprio in area pivot daily e con l'idea quindi che possa essere questa un'area di sostegno del prezzo e ripartenza verso i livelli di resistenza, quindi andiamo a privilegiare da grafico orario la prima delle due view. Per quello che riguarda il Fuzzimib, qui il segnale daily secondo me è un po' più lontano, dobbiamo aspettare il superamento dei 19.700 punti, per cui qui chiaramente i ribassi sono stati più importanti, il grafico orario è andato a superare, o meglio sta superando qui le belle resistenze, anche qui area di confluenza grafica attorno a 19.470-19.500 punti, per cui il segnale long per i più aggressivi è scattato proprio per andare a rivedere il fondamentale livello a 716. Se chiaramente qui dovessimo assistere a, vedete, un arresto del prezzo con dei massimi che andassero a arrotondarsi e dei ritorni sotto 450, altrettanto in maniera tecnica, come sempre quest'indice, io andrei a contemplare degli short con primi obiettivi in area 200. Va bene, dai, io mi fermo qui con l'analisi, chiaramente resto con voi alcuni minuti per le vostre domande e naturalmente come ieri e come sempre vi aspetto sul delefax.it per eventualmente continuare con le nostre analisi, quindi è quella poi la sede in cui ci sposteremo. Intanto io per la giornata di oggi vi auguro un buon trading, mi auguro di incontrarvi sul forum, intanto vi saluto. Grazie. 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 Grazie.